terza dose aperta da subito a tutti i cittadini della campagna dopo i sei mesi si conferma quanto stabilito già in precedenza nel corso della riunione convocata dal presidente vincenzo de luca con i dirigenzi delle as e delle aziende ospedaliere della campagna è stato confermato che le vaccinazioni con terza dose trascorsi sei mesi dall'ultima somministrazione sono aperte a tutti i cittadini della campagna senza limiti di fasce di età o di categorie per le terze dosi ci si può rivolgere direttamente ai centri vaccinali senza alcuna prenotazione resta la priorità assoluta delle dosi booster per il personale sanitario quello dell'rsa e del personale scolastico ma ogni cittadino che voglia può essere immediatamente vaccinato